Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi vuole darle un posto da manager Maria De Filippi regala sempre, degli ascolti molto alti a Mediaset, con i suoi programmi che sono seguitissimi. L'ultima puntata del Talent Show Amici, ha fatto registrare, con la vittoria di Mattia, dei picchi del 33% di share, con delle cifre elevatissime quindi in termine di ascolti. Il suo programma pomeridiano, Uomini e Donne, è sempre molto seguito, mentre anche quest'anno C'è posta per te, è stata apprezzatissima dal pubblico di Canale 5, che le ha fatto registrare il solito record di ascolti. Perciò, secondo quanto è trapelato, come sempre l'intenzione, è quella di rinnovare tutti i programmi della conduttrice. I telespettatori rivedranno una nuova edizione di Amici, di Uomini e Donne, di C'è posta per te e di tutte le altre trasmissioni, che vedono la De Filippi come padrona di casa. Inoltre, dal pubblico ma anche dai vertici aziendali, è stato apprezzato molto il modo professionale, in cui Maria ha gestito il suo lutto e il suo periodo difficile, rimanendo in televisione e gestendo i programmi, nella stessa maniera, anche con allegria. Perciò, sembra che ci sia, proprio da Pier Silvio Berlusconi, anche l'intenzione di darle più spazio in Mediaset, persino con dei ruoli per lei completamente inediti. Maria De Filippi, si va verso un posto da manager per la conduttrice. Dalla rivista Nuovo TV, infatti, emerge la volontà da parte dei vertici Mediaset, ed in particolare da parte di Pier Silvio Berlusconi, di rafforzare in vari modi la partnership con la De Filippi. Ed nell'aria quindi l'ipotesi di un nuovo programma per lei, magari in prima serata o differente dagli altri, che finora ha condotto. Ma anche una proposta che cambierebbe molto, ciò che ha fatto Maria finora. Infatti, secondo il settimanale, Mediaset starebbe pensando di offrire alla conduttrice, un posto da super manager nella tv commerciale. Non è ancora chiaro quale ruolo avrebbe esattamente Maria De Filippi, e se questa decisione in realtà è stata ufficialmente presa. Nuovo TV però non sembra avere dubbi, sul fatto che questa possibilità si sta seriamente considerando, e potrebbero arrivare presto notizie in questo senso. D'altronde, come ha confermato lo stesso giornale, i programmi prodotti e condotti da Maria, riescono a far fruttare a Mediaset cifre milionarie. Anche da qui nasce l'intenzione di rendere più stretto il legame con la De Filippi, ma per avere maggiori notizie con certezza, bisognerà attendere. Voi che cosa ne pensate? Concordate con l'idea di Mediaset, di dare maggiore spazio a Maria, e persino un ruolo da manager? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!